Una vera e propria tragedia, quella che si è consumata ieri verso le 23 allo stadio Don Luigi di Iorio di Barano. Durante una partita di calcio tra amici, un giocatore si è sentito male, ha subito un arresto cardiaco e nonostante i soccorsi è deceduto sul campo. A perdere la vita, l'italo-tedesco Sven Andrea Strani, 39 anni, padre di tre figli, residente ad Ischia, a Campagnano. Questo è il racconto degli ultimi momenti di questa partita tra amici, finita in tragedia, reso dai compagni di squadra. Mentre la partita stava per terminare, Sven ha richiamato l'attenzione perché si stava sentendo male. Dopo poco è caduto a terra. Immediatamente si sono vissuti momenti di grande disperazione e subito sono accorsi in suo aiuto i compagni di squadra. Tra questi il dottor Pasquale Scannapieco, che per competenze e professionalità ha iniziato a gestire la situazione. Sven a terra ha avuto inizialmente una violenta convulsione, che ha costretto il medico ad intervenire dapprima ponendo il paziente in posizione di sicurezza, cercando di tenere libere le prime vie respiratorie, poi praticando il massaggio cardiaco. I segni vitali però pian piano si sono affievoliti, finché dal polso non è arrivata la più triste delle notizie. È giunta sul posto anche l'autoambulanza del 118, con a bordo il dottor Mario Di Meglio, che insieme agli altri sanitari ha fatto di tutto per tenere in vita Sven Trani. Ma tutti i tentativi si sono rivelati vani. La prima inconfutabile diagnosi è quella dell'arresto cardiaco, anche se dai primi rilievi non si può escludere che questo sia intervenuto a seguito di altre patologie. Il corpo è stato ricoperto da un lenzuolo bianco ed è rimasto sul terreno di gioco, sequestrato in attesa delle disposizioni del giudice. Purtroppo Sven Andrea Strani, ragazzo dal fisico atletico e sempre molto allenato, è stato tradito dalla sua più grande passione, il calcio.